L'indagine FUZIMIB 2022 ci mostra come rispetto per esempio alla composizione media dei consigli di amministrazione, se li guardiamo attraverso la lente di genere, dal 2018 al 2021 abbiamo avuto una crescita più o meno di due punti percentuali. Quindi questa potrebbe sembrare una buona notizia nel senso che c'è stata come dire un lieve incremento anche come dire rispetto anche alla normativa che è stata approvata in Europa dopo dieci anni l'altro giorno che chiede a tutte le organizzazioni che operano sul territorio europeo di avere in CDA una composizione femminile della minoranza sottorappresentata del 40%. La cosa che però quando andiamo a vedere chi e che ruolo hanno le donne all'interno dei consigli di amministrazione ancora troviamo veramente una percentuale molto sparuta che ha ruoli con deleghe esecutive. Quindi la sfida all'interno dei CDA nel nostro paese dai dati, quella che possiamo osservare guardando questi dati è che abbiamo da far crescere donne in questo caso con deleghe esecutive molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Andiamo a vedere un dato su cui viene richiesto di fare disclosure e vedremo che sarà richiesto come dire che si è allargata anche questa richiesta è stato ampliato come sapete l'obbligo di rendicontazione. scopera per inquadramento. Mi vedete così perché è un inquadramento molto largo, molto lasco in questi come dire quattro cluster e queste sono ancora come si attestano le percentuali di genere nel 2022. Andiamo a vedere che cosa è migliorato. Abbiamo avuto in due anni un aumento di un punto percentuale a livello dei dirigenti. Abbiamo avuto un aumento di un punto percentuale a livello di impiegati. Abbiamo avuto una diminuzione di un punto percentuale rispetto al 2020 per quanto riguarda gli N-1. Perché andiamo a guardare questi dati? Perché anche il tanto famigerato gender, il gap salariale, spesso non si compone perché le organizzazioni non hanno politiche neutrali, politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere, ma perché spesso al loro interno hanno un tema di rappresentatività. Quando ci diciamo per esempio che i dati sono ancora accorpati per macro categorie poco significative, anche dentro il cluster dirigenti, se andiamo a vedere i ruoli profitelloso, i ruoli che hanno una retribuzione variabile più alta degli altri, oggi sono ancora a pannaggio dei nostri colleghi uomini. Per cui, come dire, andare a effettuare un'analisi un po' più sofisticata rispetto a quella che viene fatta oggi, aiuta ad andare a comprendere le cause e le azioni che abbiamo da fare. Questa fotografia rimane esattamente identica se andiamo a guardare il gap retributivo, nel senso che i valori sono in linea, assolutamente in linea con il 2020. L'unico valore che cambia di un punto percentuale di nuovo è quello relativo ai quadri, ma ci attestiamo con la solita dinamica del 23% se guardiamo il livello alto e di queste altre percentuali se guardiamo gli altri livelli, ma fondamentalmente in questi due anni ci siamo spostati veramente poco. Ed ecco anche che, come dire, questa consapevolezza riverbera nei piani di incentivazione. Abbiamo visto, no? Nel 2021 gli STI erano 50% relativi a KPI Day contro un 37% di Long Term Incentive, di LTI. Quest'anno sono assolutamente ribaltate queste percentuali, ci raccontava Sara, no? Arriviamo agli STI dal 50% passano al 37%, gli LTI dal 37% passano al 68%. Questo perché? Perché sempre di più ci stiamo rendendo conto che muovere la composizione di un'organizzazione ha a che fare con le pipeline, con i piani di carriera, con i percorsi di crescita e con una serie di attività che non sono attività one shot, ma che richiedono quella che noi chiamiamo una strategia olistica probabilmente dispiegata negli anni, dove andiamo a misurare mano a mano gli incrementi che stiamo ottenendo. Perché quello che vediamo oggi è che le organizzazioni negli ultimi anni hanno fatto tante cose, anche di valore, ma un po' scordinate tra loro e soprattutto non, come dire, poggiate su una misurazione numerica che permettesse di misurarne poi gli impatti ed eventualmente di ricorreggere le azioni. Quindi questo è un po' quello che osserviamo noi. In questo senso la normativa sta spingendo, un po' come fu la legge Golfo Mosca ai tempi, e sempre più paesi stanno rendendo obbligatoria la rendicontazione intanto rispetto al genere. Qui vedete una mappa a livello mondo e dove trovate il verde scuro sono quei paesi per cui la rendicontazione sul gender gap è diventata obbligatoria, è richiesta per legge. I paesi blu non hanno nessun obbligo di rendicontazione, gli Stati Uniti li troviamo a righine perché alcuni stati hanno l'obbligo e altri no. Ma ad esempio negli Stati Uniti dove il Black Lives Matter è stato un movimento che ha abbastanza, come dire, scosso le fondamenta della società, l'obbligo di rendicontazione non riguarda già più solo il genere, ma riguarda anche l'etnia e la razza. Vi sto dando degli esempi. L'Europa. L'Europa, come avete visto qui, è molto avanti nel suo cammino verso la rendicontazione obbligatoria e al momento ogni paese europeo, poi trovate tutte le fonti dopo quando ricevete le slide potete, se volete, andarvi a leggere che cosa fa ogni paese, ma ogni paese europeo ha una sua legislazione a riguardo. E il lavoro che sta facendo l'Europa è quello di cercare sempre più di armonizzare, anche dando delle cornici normative comuni. Al momento si sta lavorando molto a livello di Commissione europea sul tema dell'equal pay for equal work, per cui non facciamo più rendicontazione di dati che sono poco significativi, quello che noi chiamiamo il raw gap. Tutti gli uomini, tutte le donne, faccio una media, perché quel dato mi dice veramente poco. Almeno cominciamo a comparare a parità di complessità, a parità di ruolo, a parità di job family. E, come dire, tutte queste normative vanno in questa direzione. E sempre di più, come dire, si allargerà questo paniere di paesi che hanno l'obbligo di rendicontazione. Al momento l'obbligo di rendicontazione in comunità europea fissa il gap al 5%, ma non è ancora diventata legge. Quindi questo è dove la Commissione europea si sta orientando in questo momento. L'ultimo punto, l'Italia. Sappiamo che è stata approvata la legge a fine ottobre dell'anno scorso. Oggi dove siamo? Due appuntamenti fondamentalmente da tenere in mente. Il 30 settembre 2022, tutte le organizzazioni che operano in Italia, con sede in Italia, sopra i 50 dipendenti, devono rendicontare. Devono obbligatoriamente rendicontare. I template sono usciti, si trovano ormai dal sito del Ministero delle Pari Opportunità. Ma, insomma, possiamo anche metterle a disposizione nel link dell'osservatorio. E è obbligatorio e rendiconteremo sul biennio 2020-2021. È una rendicontazione che le aziende sopra i 100 dipendenti facevano ogni due anni. È stata ampliata, ci vengono richiesti più dati rispetto a prima e cominciano a chiederci anche dei dati un po' più granulari rispetto a quelli che ci hanno chiesto in passato. Questo è un obbligo di legge e siamo tutti tenuti a farlo. Contemporaneamente a questo, come sapete, è uscita la prassi 1 di riferimento, la 125, che fa riferimento alla certificazione. La certificazione non è obbligatoria, ma è volontaria. Dove siamo oggi? Oggi siamo al... Gli enti certificatori si stanno a loro volta certificando su Accredia e probabilmente tra fine giugno, metà di luglio, avremo contezza di quali sono i primi enti che sono stati riconosciuti da Accredia come possibili erogatori di certificazione e da allora le aziende volontariamente potranno cominciare questo processo. Questo processo, come vi dicevo, fa riferimento all'Uni 125, funzionerà come un ISO fondamentalmente. Quindi, come le aree di indagine sono sei, ogni area ha un peso. Se l'azienda totalizza 60 punti su un totale che fa più di 100, ottiene la certificazione. La certificazione sarà valida per un triennio e per ottenere la certificazione l'azienda dovrà fare due passi. Un primo audit documentale e un secondo audit su come vengono implementati i processi. Di norma il percorso di certificazione è da tre a sei mesi e la cosa interessante è che entra in una politica incentivante per cui chi si certifica, le organizzazioni che si certificano da una parte accedono agli sgravi fiscali fino al 5% delle contribuzioni sui dipendenti, fino a un cap di 50.000 euro e soprattutto hanno più punteggio nel momento in cui l'organizzazione partecipa a un bando pubblico. Quindi potrebbe essere anche un criterio, sarà uno dei criteri di selezione dei partner, dei fornitori per gli appalti pubblici. Quindi oggi siamo qui, due cose da fare. Uno, rendi contazione obbligatoria, il portale si apre il 23 giugno ma i template ci sono già e noi stiamo sostenendo un po' le aziende anche nel comprendere come è cambiato il template, quali sono. L'altro punto è prepararsi alla certificazione perché insomma sono due cose che possono essere di interesse per un'organizzazione. E io qui mi fermerei e lascerei la parola a Roberta, sappia, che invece ci, come dire, porta a fare un affondo sul mondo dei financial services.